e salve a tutti ragazzi e benvenuti sul canale purtroppo questo gameplay è venuto senza audio cioè si in questo momento state sentendo la mia voce ma sto registrando questo audio post video perché mi sono accorto che in realtà il microfono era spento maledizione e quindi niente visto solo dicendo che il resto del gameplay sarà senza audio però per farla in breve vi dico che in questo episodio andremo ad affrontare le queste secondarie oggi affronteremo pulizia a fondo faccio questi video proprio per evitare di creare nella storia principale video troppo lunghi e quindi li spezzate in questa maniera in modo tale che noi ci concentriamo con dei video solo sulla storia principale e altri video solo per le queste secondarie in questo video inoltre vado anche a potenziare i nostri poteri del nostro personaggio principale aumentando appunto la potenza dell'attacco del vento spero che questo video vi sia utile e come sempre ragazzi io vi invito a mettere like a commentare e a iscrivervi al canale ciao bene ora al lavoro ciao oh Grazie a tutti. C'è molto ettere cristallizzato vicino a quell'edificio. E' assurdo che le cose siano peggiorate così tanto. Senza l'acqua che scorre si creerà una concentrazione di forti emozioni. Questo spiegherebbe perché è diventato così inquietante ottimamente. Quelle emozioni represse diventeranno corrotte e attireranno visitatori. Faremo meglio a indagare allora. Dovremmo cercare posti dove l'acqua si sta accumulando. Bella pensata. Deve essere qui vicino. Dovremmo cercare posti. Dovremmo cercare posti. Dovremmo cercare posti. Questo posto mi fa venire voglia di caffè e latte Beh, non lo troverai qui Non sono mai stato in un posto del genere Vale anche per me Non promette bene La corruzione è così forte che ha distorto lo spazio Dove siamo? Sempre colpa della corruzione È ora di un riso Non lo troverai Grazie a tutti. 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 Questo posto riaprirà quando Tokyo tornerà normale. Non ne ho proprio idea. Un fiume non smette di scorrere e l'acqua non è mai la stessa. La vita cambia di continuo. Niente rimane uguale. Grazie a tutti. Bene. E anche questa prima quest secondaria è andata a termine. Ora se riesco vi pubblicherò anche la seconda in serata. Voi mi raccomando come sempre spolliciate, mettete like e iscrivetevi al canale. Ciao, valeo.